Ciao Marcos, sono Giampaolo, un forte abbraccio e un grandissimo saluto perché volevo accomunarmi tutte le persone che ti sono vicini in questo momento per il tuo addio alla pallavola a giocarle. Volevo dirti di quanto sia stato bello poterti allenare e soprattutto che per me è stato un privilegio, un privilegio perché tu sei uno di quei rari giocatori che hanno due caratteristiche fondamentali, una è il grande talento, l'eccellenza e le qualità tecniche, la seconda è delle qualità morali che possiamo trovare solo in una sola categoria di giocatori, cioè quella dei campioni. Per me tu sei stato un campione straordinario perché riuscivi a unire, oltre alle qualità tecniche e tattiche sul campo, qualità morali straordinarie, grinta, passione, determinazione, spirito di sacrificio, altruismo, ma soprattutto grande passione. Il mio augurio è questo, che tu riesca a mettere la stessa passione che avevi sul campo da pallavolo nella tua seconda vita, nella tua futura vita. Sono convinto che avrai un successo straordinario e io sarò una delle prime persone che ti verrà a salutare e che gioierà con te per i tuoi nuovi successi. Un grande abbraccio e spero di venire a trovare presto in Argentina. Ciao, Gianpaolo. 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 Ciao, Gianpaolo.